Afghanistan per i paracadutisti di Vicenza Cambiamo argomento, parliamo del caldo africano di questi giorni Beh, pensate un po', è solo un antipasto di ciò che aspetta anche i vicentini a partire da lunedì Gli esperti dicono infatti che le temperature la settimana prossima potrebbero raggiungere valori anche di 9 gradi sopra le medie stagionali Allora Marco, il caldo ci sta letteralmente attanagliando però il peggio deve ancora venire Il peggio lo avremo a iniziare dalla prossima settimana con i picchi massimi di calore che si raggiungeranno tra i giorni di martedì e il giorno di giovedì Meno umidità quindi, ma temperature record Questo è ciò che attenderà Vicenza in una delle settimane più torride che si ricordino da mezzo secolo ad oggi Ciò che più allarma e che ben si evince dal grafico è il fatto che siamo a fine agosto e che le temperature siano di ben 9 gradi sopra la media estiva Per iniziare ad intravedere una tregua bisognerà attendere il prossimo fine settimana ma anche in questo caso le previsioni lasciano un amaro in bocca Spesso quando il caldo di questo tipo interessa le nostre regioni provoca un accumulo energetico abbastanza importante e qualora l'avvento di aria fresca sia abbastanza tumultuoso possiamo aspettarci anche temporali di forte intensità con annesse grandinate e forti colpi di vento E che le sarà di settembre? Difficile dirlo perché spingendosi troppo in là nel tempo le previsioni perdono la loro efficacia Sotto voce però vi anticipiamo che nei primi giorni del mese potrebbero ripresentarsi temperature torride ma il condizionale è d'obbligo A tradirli è stato probabilmente il nervosismo alla vista degli agenti di...